Quarta e ultima parte di questo spettacolare box cioè di glaciazione plasma poi alla fine dell'apertura degli ultimi 9 pacchetti faccio il recap totale delle carte trovate ma ci dovrebbe essere qualcos'altro in questi 9 pacchetti speriamo che ci sia speriamo di essere fortunati non credo di trovare la shiny che in questo periodo io con le shiny non vado molto d'accordo a quanto pare allora abbiamo Vaporeon Zuelus Lampent Orsi c'è un altro ice pack Trico Grimer Yamask Timepole e Roccio difesa più Cacturon Raro Roccio difesa ancora non l'avevo visto nelle aperture Bello Codice B-Sharp Nidorina Pietra Lieve Orsi Trico Timepole Ponyard Pacirisu Electrode Raro sarà anche Olorversi e Kecleon Kecleon Raro Ancora non l'avevo trovato Kecleon come si è aperto questo pacchetto non ve lo dico neanche buttiamo tutto Codice Medaglia del Team Plasma Lanthorn Grovile Litwick Primep Orsi Trico Timepole Metangreverse e Absololo No ve l'ho detto questo è il box delle Olo fantastiche cioè sono le Olo più belle questo è il box delle Olo Vaporeon Sidra Execute Weedle Grimer Yamask Litwick Primep Crocodile Reverse finalmente che ancora non l'avevo trovato e Sablay Raro Codice Ispion Palpitod Recupero di Energia Plus Monkey Nidoran Femmina Weedle Grimer Yamask Ponyard Reverse e Quagsire Raro che ancora non avevo trovato ci resta per forza qualcos'altro spero Trio Scuro Miltank Onyx Makuita Deino Vanillite Monkey Nidoran Femmina Litwick Reverse e Kofagrigus e Kofagrigus ho trovato una montagna di Olo in questo box però avendo trovato due spec non so se ci sarà qualcos'altro mi sa che col secondo asso tattico vorrei dire ma allora Energia Plasma Metang Dragonair Nidoran Maschio Rattata Makuita Deino Vanillite Chandler Olo Reverse spettacolare e Ambre un Olo cioè sto tornando qua su tutte le Olo bellissimo ma è un box spettacolare non mi posso davvero lamentare ragazzi davvero no cioè sarebbe un sacrilegio non mi posso proprio lamentare Krayogonal Metang Kakuna Cinciu Deino Sundial Nidoran Maschio Rattata Onyx Reverse e We Whale raro che ancora non ho trovato ultimo pacchetto di questo splendido box non penso di trovarci nulla ma lo apriamo ovviamente non è che lo tengo chiuso codice allora Team Plasma Ball Lanthorn Lanthorn Mawile Wooper Sneasel Cinciu Deino Sundial Yamasker e Beedrill raro allora datemi solamente un attimo che mette sleeve le ultime Olo trovate in modo che vi faccio il recap completo delle carte datemi solo un minuto anche meno ok ci sono quasi eh intanto voi prendete le patatine pop corn mangiate qualcosa nel frattempo che mi aspettate così si passa meglio il tempo eccomi qua allora questo box magnifico mi ha portato e spec roccio difesa absol Olo cofagricus Olo ambreon Olo curem Olo dragonite Olo metagross Olo gecis Olo reshiram Olo chandelure Olo e spec rugiada della vita il magnifico e anche i fantastici Latios e Latias CX e il meraviglioso Tornado CX full art ragazzi questo è stato un box davvero fantastico io ringrazio sempre per le iscrizioni vi ringrazio sempre perché continuate a seguirmi e niente vi aspetto per le prossime aperture ciao a tutti a tutti